Tante segnalazioni di persone in mare a rischio annegamento per gli agenti del commissariato di Vittoria. Due ragazzini sono stati salvati dai bagnini in servizio sotto l'hotel MEDA mentre altri interventi sono stati richiesti in altre zone del litorale scoglittese. Tra questi uno alle ore 19 circa alla scogliera di cui poliziotti però non hanno avuto alcun riscontro conferma da parte dei parenti. Dunque è una giornata intensa quella di ieri per le forze dell'ordine dell'Ipparino in occasione del lunedì di San Giovanni. Diverse segnalazioni e per fortuna nessuna tragedia anche sia scoglitti e scoppiata la piscosi dell'annegato. Infatti in mattinata sono giunte diverse segnalazioni alla nostra redazione di gente fortemente preoccupata perché si era diffusa la notizia di diversi annegamenti lungo il litorale. Voci che sono state smentite dagli inquirenti che hanno confermato le segnalazioni risoltesi nel migliore dei modi. Durante il fine settimana inoltre in occasione delle festività del Santo Patrono il commissariato di via Emanuele Loia ha messo in campo ben 12 pattuglie. Nel corso della notte sono state controllati 65 veicoli e 130 persone diversi verbali elevati per infrazioni varie.